40 festival e quasi 200 tra eventi e progetti culturali. Questi numeri con cui Umea, a 650 km da Stoccolma in Svezda, si prepara ad essere capitale europea della cultura per il 2014 insieme alla Lettoneriga. Per la festa inaugurale, nel weekend tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, la città scandinava ospiterà una kermess d'arte tra neve e fuoco che si annuncia spettacolare. Umea sorge nel territorio dei Sami, unico popolo indigeno sopravvissuto in Europa e gli eventi seguono il calendario di quest'antica stirpe.